Agenda di Mer, 25 agosto 1954. Un estratto. Non ricordo più a chi dicevo oggi. Mi pare in occasione di un birthday, di un compleanno. No, non mi ricordo più. Insomma, qualcuno mi diceva che compiva 18 anni. Gli ho detto che quando avevo tra 18 e 20 anni, avevo raggiunto l'unione cosciente e continua con la presenza divina. E che c'ero arrivata completamente da sola. Senza assolutamente l'aiuto di nessuno, neanche dei libri. Quando un po' più in là mi è capitato tra le mani Raja Yoga di Vivekananda, mi è sembrato una meraviglia tale, davvero, che qualcuno potesse spiegarmi qualcosa. E così ho potuto fare in pochi mesi quello che magari mi avrebbe preso anni e anni. Ho incontrato un uomo, avevo 20 o 21 anni mi pare, un indiano originario di queste parti, che mi ha parlato della Bhagavad Gita. Esisteva una traduzione mediocre del resto e lui mi ha consigliato di leggerla e me ne ha dato la chiave. L'interpretazione sua, insomma, mi ha detto, legga la Gita, cioè quella traduzione della Gita che non valeva un granché, ma insomma era la sola in francese. A quell'epoca non avrei potuto capire niente in un'altra lingua. D'altronde le traduzioni in inglese non è che siano meglio e io non avevo, Shri Aurobindo non aveva ancora fatto la sua. Quest'uomo mi ha detto, legga la Gita e consideri Krishna il simbolo del Dio immanente, del Dio interiore. Ecco tutto quello che mi ha detto. La legga tenendo ben chiaro che nella Gita Krishna rappresenta il Dio immanente, il Dio che è dentro di lei. E così, in un mese, tutto il lavoro era fatto. Perciò voi mi capite, voi che state qui a volte fin da piccoli, a voi è stato spiegato tutto, avete trovato tutto pronto, siete stati messi non solo con le parole, ma aiutandovi sul piano psichico e in tutti i modi possibili, sulla strada della scoperta interiore. E invece vi lasciate vivere come viene e viene, verrà quando verrà, se almeno ci pensaste un attimo. Ecco, non che questo mi scoraggi per niente, anzi lo trovo anche divertente, solo che ci sono altre cose che mi sembrano molto meno divertenti. Per esempio, quando cercate di ingannare voi stessi. No, questo è meno bello. Non bisogna scambiare una cosa per un'altra. Bisogna, come si dice, dire pane al pane, vino al vino e l'istinto umano chiamarlo istinto umano. Senza tirare in ballo le cose divine quando si tratta di cose puramente umane. Ecco, e senza pretendere di avere esperienze sopramentali, vivendo in una coscienza assolutamente ordinaria. Se vi guardaste in farcia e sapeste come siete realmente, se magari prendeste una risoluzione, anzi, mi stupisce che non ne sentiate un bisogno intenso. Ma come possiamo fare per sapere? Perché lo sapete, no? Mi è stato detto, ripetuto e straripetuto. Lo sapete che avete una coscienza divina dentro di voi. Come potete dormire una notte dopo l'altra, giocare un giorno dopo l'altro, senza provare un entusiasmo e una volontà acuta di mettervi in contatto con voi. Sì, con voi stessi, qui dentro, gesto al centro del petto. E' una cosa che mi lascia così stupita. La prima volta che sono venuta a sapere, senza che me lo dicesse nessuno, l'ho saputo attraverso un'esperienza. La prima volta che ho saputo che c'era una scoperta da fare dentro di me, capite? Questa è diventata la cosa più importante, quella che doveva venire prima di qualsiasi altra. E quando, come vi ho detto, mi è capitato un libro, una persona a darmi appena una piccola indicazione, a dirmi, ecco, fa così e si aprirà una strada davanti a te, Allora mi sono precipitata come un ciclone e più niente avrebbe potuto fermarmi. E voi, da quanti anni state qui a sonnecchiare? Sì, ci pensate di tanto in tanto, soprattutto quando ve ne parlo, a volte quando leggete. Ma dov'è quell'ardore, quella volontà che vince tutti gli ostacoli, quella concentrazione che ha la meglio su tutto? Adesso chi mi ha chiesto che cosa bisogna fare? Un bambino dice, io? Beh, ecco cosa bisogna fare, bambino mio. Te l'ho appena detto.